è già partito ciao a tutti ragazzi oggi apriremo un altro pacchetto di rubia ovviamente c'è tanti tanti come in oh ecco's mince oh ecco 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 allora non si apre, portate le borbici grazie, le vediamo? no, coperte no? no, noi vogliamo fare così, grazie mille, codice, vediamolo no, 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 fai tutto ok, io energia a fuoco lavoratrice sund flora altare primordiale questo questo che carino buone arbi trusi che carino spana che carino rat why lord bellissimo e vittini che carino qual è la più potente allora? penso questo no, perché questo? no, questo questo fai rivedere tutte lille allora, saranno postate però poi le riadrizzo così si vedono meglio allora, questa abbassa verso il tavolo carino carino questa eh, io la voglio qui carino carino io sto facendo la correzione drogues buoneri anche questo mi piace carino anche questo mi piace carino kinkabla altare primordiale come è stato come pacchetto? buono è un po' scarso perché nell'altro pacchetto abbiamo trovato questa abbassa? fa vedere bella è molto meglio quell'altro salutate ciao grazie grazie